Sono terminati i lavori che hanno interessato il ponte sul fiume Tordino. L'opera di manutenzione straordinaria ha comportato il rifacimento del parapetto, il restauro e la parziale sostituzione del tavolato a terra, la levigatura, stuccatura e trattamento con vernici protettiva delle travi portanti. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del piano regionale Bike to Cost per un ammontare di 848 mila euro, comprensivo della riqualificazione della pista sul tratto centrale del lungomare. La provincia di Teramo, proprietaria della struttura, ha effettuato le verifiche di tenuta statica ed oggi la pista verso Colonia e Roseto è bella e soprattutto sicura. Per troppo tempo è stato lasciato nel più totale degrado. Grazie a dei fondi della Comunità Europea che siamo riusciti a intercettare e alla Regione Abruzzo che ha ulteriormente stanziato 168 mila euro, siamo riusciti oggi a regalare ai tanti cittadini di Giulianova e Roseto, ai tanti turisti, la possibilità di spostarsi tra le nostre due comunità senza utilizzare la macchina, ma utilizzando la bicicletta oppure facendolo a piedi. È un importante traguardo che si va a integrare con il progetto di Bike to Cost che stiamo completando sul lungomare monumentale. Devo dare atto al Comune di Giulianova alla rapidità e all'elasticità del governare che è molto importante di aver saputo indirizzare bene le forze, quindi ottenere il completamento, ottenere un completamento sicuro. Oggi noi qui dobbiamo solamente studiare il modello per poi esportarlo da qui a 10 km circa quando tra qualche mese mi auguro di sindaco che se non sarai confinante, ma hai detto bene, questo è un completamento del Bike to Cost e quindi è tutto collegato, sarà bello averti al mio fianco, non so se con la fascia blu o con la fascia tricolore, ma sarà sicuramente un onore, ti dico già da adesso, che sarai al nostro fianco.